Hanno protestato questa mattina alcuni degli autisti dipendenti dell'azienda Tundo S.p.A., azienda leader nei servizi e mobilità che presta servizio di trasporto scuola bus nel comune di Fano e nella provincia. I dipendenti lamentano da mesi il mancato pagamento degli stipendi che da tempo l'azienda non eroga a fronte dei diversi lavoratori che attualmente prestano servizio giornaliero. Attualmente è un po' critica perché siamo indietro, perlomeno io personalmente e anche tanti altri, degli stipendi da giugno che non percepiamo lo stipendio. In più il deposito che è qua, il proprietario ha chiuso il cancello perché è otto mesi che è indietro con i canoni d'affitto e perciò adesso i pulmini sono fuori e vediamo, aspettiamo. Attualmente i mezzi di trasporto sono stati parcheggiati nell'aria antistante il Codma di Fano. Sulla vicenda al momento non è voluto intervenire l'assessore Mascarini in rappresentanza del comune, mentre l'azienda replica a seguito di una nota che il pagamento del canone di locazione del deposito del signor Pucci è avvenuto già dieci giorni fa. Tuttavia egli, deliberatamente, senza alcuna giustificazione, alcun preavviso, dicono, ha impedito ai nostri autisti nella mattinata odierna di accedere all'aria di vita rimessa. La società, per i suddetti motivi, ha provveduto al trasferimento presso altro deposito per garantire che i mezzi vengano collocati presso un luogo sicuro. Per quanto invece concerne gli stipendi dei dipendenti, conclude, rassicura di aver provveduto al pagamento della mensilità di settembre nella giornata di ieri con l'invio a mezzo PEC delle distinte dei bonifici.